ok nintendari benvenuti prima di tutto andate nel canale iscrivetevi e schiacciate sulla campanella per avere tutte quante le notifiche su quando usciranno i nuovissimi video ma ora andiamo ok ci siamo e andiamo a giocare a questo nuovissimo gioco suicidium che è un gioco vedete adesso lo vedete questo qua forse qualcuno se lo ricorda cos'è ed eccoci qua a suicidium si chiama suicide wood iniziamo ok siamo questo signore qua ok caricamento ci impiega un po' per cui ricordatevi che sta ok siamo qua noi lo vediamo in terza perso no mi sembra in prima persona si deve suicidare qua mamma mi sono buttato giù mi sono suicidato ma se lo dice lui sembra un po donkey kong come fai versi si bevi che ti fa bene ancora di più ok dorme ancora vediamo che prossimo suicidio c'è un prossimo suicidio si suiciderà con qualche cos'altro allora vi dico è bello il gioco è bello però sono corti i pezzettini e poi c'è un minimo tanto da di caricamento di aspettativa però è come vi devo dire suicidio ok qua non so cosa devo fare ok ok guardate ok 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 poi chiuso guardate qua c'è un trenino è una cosa un po' un po' da pensare però è anche molto ma molto la grafica da bambini però adesso non capisco sta girando un treno no 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 Grazie a tutti. Sperduto. Adesso arriva. Mi ha preso. Bene, questo era il gioco Suicidium per Nintendo Switch. Gust, Suicidio Gust. Beh, un gioco da provare, se a chi piace i giochi di Suicidium, ma non sono proprio così. Però è un bel gioco da provare, da star lì a pensare. E niente, questo è Suicidium. Ah, ci vediamo domani, sempre e soltanto Nintendo. Ciao! 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 Ciao!